Ciao ragazzi, ciao Cristinators e bentornati sulla mia scrivania. Qualche settimana fa sono stata al lobby show che si è tenuto a Roma e sono rimasta colpita dallo stand dedicato al sospeso trasparente di Monica Allegro. Questa tecnica prevede l'uso di fogli come questi, con delle stampe che raffigurano fiori e farfalle di vario tipo, e sono realizzati con una plastica speciale che può essere modellata con il calore di una fiamma, usando una candela per esempio. Oltre a questi fogli è necessario avere un tappetino come questo per la modellazione in 3D e dei bulini in legno. Con le creazioni ottenute si possono realizzare bomboniere, decorare cornici, piattini, scatoline e tra poco vi mostrerò cosa ho realizzato io. Per prima cosa bisogna ritagliare il fiore seguendo con precisione il contorno. Poi bisogna realizzare dei tagli più profondi per separare i petali. in questo modo. A questo punto si riscalda sulla fiamma un petalo per volta. Non appena il petalo si deforma, va tolto dalla fiamma e modellato in questo modo con il bolino di legno. Ed ecco il risultato. Procediamo allo stesso modo anche per gli altri petali. Procediamo a tutti. Grazie 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 a tutti. Spero che vi piacciono. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento. Mi raccomando ricordatevi di lasciare un pollice in su e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi.